Accidenti, Az, ma chi è che guidava questa barca? Eh, io perché? Ma ti rendi conto che l'hai fatta andare a sbattere contro gli scogli? Doveva esserci un tuo parente alla guida del Titanic. Eh, ma può capitare, dopo tutto... Un pischiettino era mio parente. Prendi questo! No, no, no! E anche questo! E questo... Dove vai? Dove vai? Sì, fatti un bel volo. Eh, sì. Eh, non lo faccio ne io. Oh, l'ho mandato in orbita. Caspita, dove caspita è? Eh, dove non... Oh, dove sei finito? In un vulcano, perché... T'ho mandato nel vulcano con un pugno! Eh, ma può capitare, sai? T'ho mandato in orbita! Sì, sì. T'ho mandato in orbita! Ah, vedo i tuoi missili, aspetta che arrivo. Wow, ciao, bello. Aia! Qualcosa mi dice che ti sei fatto leggermente male. Sì, il marmazzino. Grande fulmine! Beccati i fulmini del grande mazinga. Vai, vai, vai! Dove vai? Oddio, cos'è? Dove vai? Vieni avanti! Conardo! Bello! Beh, comunque, lasciamo perdere. Allora, siamo in un'isola deserta. E io mi sono appena fatto saltare in aria. C'ho il mio rampino. Eh, dove sono finito? Sono finito qua. Ahia, perché mi spari? Questo è un rampino. Adesso basta. Senti, siamo sull'isola deserta, dobbiamo trovare il modo di scappare. Quindi dobbiamo costruire una barca. Con uno shotgun. Allora, dobbiamo costruire una barca. Secondo te... Vediamo se questo... Se questo è proprio galleggia. Sì. Sì, questo galleggia. Perfetto. Allora, io metterei un bidone così, un altro bidone così. Allora, io mettere un barco qua. oddio oddio guardami guardami dove sei? in aria ma sto volando serio sai che puoi volare con ma la sto volando lo so puoi volare con la physical no 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 ahia mi ha salvato la vita capitano ma lei non sa neanche atterrare un termosifone sta attentando la mia vita ahia è fondante il termosifone vabbè comunque bene allora adesso però ci vuole un motore oddio christian si deve trovare un motore che razza di motore è questo? è un motore che razza di motore è questo? che motore è? allora ci serve qualcosa di leggero qualcosa che non ci trascini sott'acqua questo qui ahio no questo ci trascina sott'acqua allora via aspetta propulsore adesso dovrebbe andare oh mi spiego sono spugato ahia è troppo troppo potenti i propulsori uh funziona guarda funziona aspetta entra un po' d'acqua però funziona ah arrivo aspetta 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 dobbiamo fermarci c'è propulsori c'è propulsori troppo potenti aiuto aspetta andiamo in un'altra isola scossa e fu così che i due lasciarono l'isola a